Ok ragazzi, questo podcast abbiamo Roberto Buonuomo, IFBB Pro, uno degli Open Pro italiani più di spicco. Questo come detto sta lavorando con Patrick Tour, ha iniziato la sua fase di off-season e sono molto molto contento di poterlo avere ospite per fare più diacche. Nel podcast parleremo della sua preparazione con Neil l'anno scorso, la sua esperienza e la sua esperienza adesso con Patrick, dei diverse fasi di off-season, di contest prep, insomma un sacco di condizioni interessanti che Roberto può darci sia come atleta sia come preparatore. Quindi non vedo l'ora di questa bella chiacchierata e per voi godetevela al massimo. Volevo partire, volevo partire dalle storie che hai fatto con, sul, diciamo l'approccio, il cambiamento che hai fatto, che abbiamo visto tutti perché il cambiamento del back è clamoroso, ok? E la cosa che poi molte persone non colgono è che un atleta già avanzato, già professionista, vedere un cambiamento così evidente, cioè che vedo un'immagine e vedo boom, wow, cazzo, non è roba da poco, cioè vuol dire che c'è veramente qualcosa di importante che è stato fatto. E la cosa che hai detto è, tu hai fatto il percorso con Neil prima e poi adesso hai iniziato con Patrick. Da quant'è che stai lavorando con Patrick? Otto settimane? Dieci? No, con Patrick lavoro da sei settimane prima della gara in Romania, quindi parliamo della metà ottobre che ho incominciato con lui. Chiaramente ci sono state le prime, diciamo, sei settimane di puro pre-contest perché avevo già da fare in Romania e quella poi a Praga, subito la settimana dopo, e poi da lì, diciamo, abbiamo incominciato più una fase di costruzione. Esatto. La cosa che mi è piaciuta è che hai detto come il grosso che tu hai visto di cambiamento è stato sull'allenamento. Sì, assolutamente sì. Diciamo che nel corso della mia carriera ho sperimentato chiaramente più metodologie di allenamento, ho avuto la fortuna di lavorare comunque con più coach, più o meno affermati in ambito internazionale anche, e diciamo che durante la prima parte della mia carriera mi sono dedicato più ad allenamenti ad alto volume. Alto barra anche altissimo volume, con anche doppie split giornaliere, quindi veramente ho un volume molto molto sostenuto. Diciamo che con questa metodica di allenamento chiaramente mi sono formato come atleta, quindi non posso dire di essermi trovato male. Sicuramente ho risposto, ho risposto bene, la ProCard l'ho vinta con quella metodologia, comunque anche il primo anno da professionista, quindi comunque un altro grande cambiamento, forse i primi due, non il primo anno da professionista, quindi comunque un altro bello upgrade anche in termini di volumi l'ho fatto con quella metodologia, che è comunque un qualcosa che io mi sento comunque di consigliare, anche da coach, è un qualcosa che ripropongo alla maggior parte dei miei atleti, perché ritengo che sia comunque una metodologia che probabilmente, seppur meno scientifica e più sbagliata, lasciami passare il termine, produce comunque degli ottimi risultati, ma produce degli ottimi risultati, a mio avviso, in primis sui muscoli che sono comunque predisposti alla crescita della serie, qualsiasi cosa ci faccio fare, questi gruppi muscolari rispondono, io questo è qualcosa che ho visto, diciamo, pettorali, spalle, braccia, gambe, quali cipiti, mi hanno sempre risposto bene anche senza farci particolare attenzione, ok? Senza curare troppo l'allenamento. E poi funziona bene appunto su soggetti che magari non sono molto avanzati. Essere molto avanzati è differente dall'allenarsi da tanto tempo, cioè essere avanzati secondo me è un aspetto che prescinde appunto dall'allenamento, perché probabilmente se uno prova sempre quella stessa metodica, in realtà non riesce mai a fare poi quel passettino in avanti in termini appunto magari di capacità di reggere lavori ad alta intensità. Quindi semplicemente io credo che il grosso cambiamento del back, come dicevi tu, ma anche degli altri gruppi muscolari, derivi da questo mio approccio totalmente differente all'allenamento, che dipende chiaramente dalla metodologia differente che mi è stata proposta. In primis da Neil, che comunque lavorava con un volume già molto ridotto rispetto a quello a cui ero abituato, e ancora di più con Patrick. Secondo me un aspetto importante è stato quello di non passare dalle 50 serie settimanali alle 10, 8, che magari faccio in questo momento, bensì appunto un approccio più graduale, perché non è stato assolutamente facile, ti assicuro. No, è bella questa cosa che hai detto perché è un qualcosa che io vedo sempre, cioè quando l'atleta è intermedio è diciamo la fase in cui riesce a sopportare in realtà paradossalmente più volume in assoluto, perché inizia ad aver bisogno di più stimolo per crescere, perché logicamente rispetto a un neofita gli devi far fare qualcosa in più, però allo stesso tempo non ha ancora quella capacità di effort, di carichi anche, per cui le serie sono alla fine più semplici da portare, e quindi lo puoi spingere tanto. E c'è questa specie di fase durante la vita dell'atleta in cui vediamo che inizia a sostenere tanto volume, spingere tanto sul volume, cioè a fargli fare tante serie, tante serie, tante serie, in realtà è proficuo. Il discorso è che in parallelo, e questa credo che sia la cosa un po' più difficile, che infatti hai detto, non è che, cioè se fai sempre la stessa metodologia magari non diventi mai avanzato, è che comunque l'atleta, ok, spingo sul volume, ma dovrebbe cercare sempre di cercare di lavorare sulle altre variabili, che sono l'intensità, il carico, eccetera, proprio per riuscire a fare quel passo in più, cioè arrivare al punto che dire, guarda, sai che c'è io tutto sto volume, non lo reggo, allora faccio un passetto indietro, provo a lavorare su un altro sistema, poi faccio un altro passetto indietro, e quindi, diciamo, questa tua esperienza è un po' un paradigma di quella che è l'evoluzione naturale dell'atleta, che è riportata proprio alla perfezione, e che hai fatto, secondo me, come dici te, in maniera eccelsa, cioè passando da Neil, riduciando un po' il volume, passando da Patrick, eccetera, quali sono proprio le differenze che hai trovato in allenamento? Innanzitutto passando da Neil, cioè come impostava l'allenamento, la periodizzazione, lui ha lo Yoda T-Training, no? Quindi questa variazione su... lui ha questo sistema che prevede, in pratica, una ciclizzazione degli allenamenti, quindi come noi siamo abituati magari a ciclizzare i carboidrati con alti, medi e bassi, lui fa lavorare, in realtà, a medio-bassa ripetizioni, medio-alte ripetizioni, oppure con un lavoro totalmente metabolico nella week 3. Quindi, appunto, poi a seconda dell'atleta che si trova davanti, stabilisce, appunto, la ciclizzazione. Io personalmente durante... abbiamo lavorato insieme un anno da luglio del 2022, quindi circa un anno e tre mesi, ho praticamente sempre fatto tre settimane della settimana 1, quindi il programma ha ripetizioni medio-basse, significa tra le 8 e le 12, ok? Più o meno così. Una settimana, invece, passavo a fare delle ripetizioni medio-alte e una settimana, invece, un lavoro molto metabolico, un lavoro molto denso. Le serie d'allenamento, insomma, erano massimo 13-14 per i gruppi muscolari grandi e, diciamo, con lui mi sono trovato bene perché è stata una preparazione, secondo me, molto, molto sostenibile. so che questo è un termine un po' atipico, soprattutto per l'agonismo e il professionismo, però in effetti è stata veramente una passeggiata. Sono arrivato in gara... Parli della preparazione alla gara? Sì, è stata veramente una passeggiata, nel senso che mi sono ritrovato in gara quasi senza accorgermene, ma fondamentalmente perché non ha mai spinto tanto con le calorie, per esempio, durante la fase di bulk, pertanto sono rimasto sempre più o meno abbastanza in forma e quindi sono riuscito ad arrivare in gara in maniera molto, molto graduale. Ma, diciamo, grossi eccessi, né durante la fase di bulk, né durante quella di taglio per la gara. Ovviamente io sto parlando della mia personale esperienza, poi magari con altri atleti è stato completamente differente. Io chiaramente mi sono potuto confrontare con altri atleti che lui ha seguito. Diciamo, chiaramente lui personalizza però la metodologia, almeno dell'allenamento, che propone quella lì che ti ho descritto. Diciamo, lui assegna proprio una scheda, quindi anche la scelta di esercizi, numero di serie, ripetizioni, insomma un po' come tutti siamo abituati a vedere. E devo dire che comunque è stata una metodologia con cui mi sono trovato bene. Abbiamo allenato praticamente quasi sempre in multifrequenza railback e alternavamo quasi durante tutto l'anno tre giorni di allenamento e un giorno di riposo. Quindi non avevamo una settimana classica, bensì appunto tre on, uno off, tre on, uno off. Questo è stato più o meno ciò che abbiamo fatto, diciamo, lo scorso anno. Per contestualizzare, a livello, diciamo, calorico in off-season, quando dici non abbiamo spinto tanto, dite di quanto paghiamo. Perché ogni persona ha il suo modo di vedere e non spingere tanto. Allora, per darti un'idea, io nel 2022 contattai Neil Hill appunto dopo la gara di Estoril, quindi parliamo di lui nel 2022. Gara dove... Però con Brandao, dove stai sul palco con Brandao, era quella? No, quella è stato il mio esordio in assoluto, è stato il canto dei miei giochi. Ok. Quindi il 2022 è stata la, forse la prima, no, il secondo anno che vinse Presti, mi pare, sì. Ok, ok. Sì, che fece Presti primo e Musi seconde. E Musi seconde. Sì, 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 me lo ricordo, ok. Diciamo che in quella gara lì, io ero gestito da un altro coach, che è Giuseppe Romano, e ero arrivato in gara con una quota di carboidrati più che dignitosa. Stavo tra i 200 e i 300 grammi di... Io parlo di quota lorda, quindi di riso quotidianamente, insomma, tra i 200 e i 300 grammi di riso, nei giorni di scarica. Diciamo che dopo la competizione, invio le foto appunto a Neil, abbiamo avuto poi delle conversazioni prima di incominciare il percorso. Questo è un qualcosa che ho visto, diciamo così, fare più volte con i coach stranieri, che non c'è una mera accettazione dell'atleta. Sì, ok, paghi, è fatto. C'è un sempre un valutiamo, esatto. Appunto, Neil, io non lo conoscevo proprio, quindi abbiamo avuto delle conversazioni prima di incominciare la pianificazione. Gli inviai le fotografie, e appunto è tutto il report che lui richiede, e la prima programmazione che mi venne restituita prevedeva 300 grammi di riso quotidiani. E lui insieme con la ciclizzazione dell'allenamento, da anche la ciclizzazione di carboidrati. Quindi lui parte a prescindere con baseline, oppure alti, oppure bassi carboidrati. È della metodologia in realtà molto comoda anche da coach, perché lui semplicemente ai check si limitava molto spesso a dare semplicemente la gestione appunto della settimana successiva. Quindi, per esempio, fai baseline, oppure fai high carb, fai low carb, quindi più o meno è stata la gestione che si aveva. E appunto lui definiva alti carboidrati questi 300 grammi di riso. Era il giornata alta? Sì, sì. E mi faceva andare così. Considera che io non sapevamo se fare un'altra gara. Probabilmente c'era in programma di fare una competizione che si sarebbe tenuta otto settimane dopo. Quindi, chiaramente, io reggevo tranquillamente la dieta perché sapevo che avrei dovuto rigareggiare. Poi decidemmo di non fare in realtà quella competizione. Quindi lui forse i primi 20-25 giorni mi ha tenuto così, prima di rendersi conto che effettivamente il mio corpo implodeva, non riusciva a stare, anche perché io ero già tirato dalla gara. Metabolismo a palla dalla prima competizione e quindi siamo gradualmente saliti con i carboidrati, ma quota massima comunque raggiunta con lui sui 600 grammi di riso al giorno. Questo in off-season? Questo in off-season. Come ti ho detto, non mi sono mai sporcato più di tanto. Sono arrivato tra i 125-128 chili, però fai questi 128 proprio toccati, subito riscendevamo. Non ho mai avuto un aspetto particolarmente gonfio, ho sempre una percentuale di grasso molto molto contenuta. E infatti poi con me iniziamo il pre-contest, già a 120 chili ero asciutto, buono, e siamo arrivati in maniera, come ti ho detto, molto molto graduale. Quindi, diciamo, l'approccio alimentare di Neil è sicuramente molto particolare ed è un approccio di quelli lì che vediamo insomma in rete fatti proprio dai campioni di altissimo livello che magari hanno quantitativi proteici estremamente alti e magari carboidrati molto più ridotti. So che su questo termine magari non siamo troppo concordi, però diciamo, confrontandomi un po' in giro, probabilmente la realtà è che alcuni atleti che sono i per responder riescono a tollerare anche quantitativi proteici di, appunto, elevati e gestiscono bene un'alimentazione del genere. Guarda, io credo, io su questo sono proprio la pecora nera. Io, nel senso, non dico, non ho proprio metri di paragone perché credo che in assoluto sono tra le persone che sostengono le proteine più basse. Io spingo molto con gli essenziali, cioè la cosa che comunque vado a dire è che se poi vai a fare un calcolo del bilancio proprio di amminoacidi totali, stiamo sempre là. diciamo là come coach che stanno più bassi di proteine e c'è quest'altra faccia della medaglia, diciamo. Però sì, assolutamente, cioè di media le proteine sono tenute molto più alte in fasi, da quasi tutti i preparatori, da quasi tutti. Neil credo che sia uno di quelli che li tenga più alte, se non sbaglio. Veramente alte, anche perché tu lo saprai meglio di me visto che sei in Inghilterra. Lui dà un quantitativo da cotto. Sì, sempre c'è. Fai il pollo da cotto e lui ha un carattere molto particolare, è molto rigido e inflessibile. Pertanto anche se, per esempio, chiaramente all'inizio io non avevo proprio idea di come poter convertire, no? Io sono abituato a cucinare i miei pasti il giorno prima, ma soltanto per un giorno. Non faccio il prep per tutta la settimana e quindi per essere preciso chiaramente richiedevo la conversione. E lui mi diceva di guardare online. Il problema è che quando poi io facevo la prova pratica non mi trovo mai con questa testa tabella. Alla fine mi sono reso conto, proprio alla fine della preparazione, che io probabilmente ho mangiato in realtà anche meno proteine di quelle che dicevo. Di quelle che dovevo mangiare. Sì, sì. Perché... Cioè, nel senso, io su questo... Io facevo sui 300 grammi di proteine crude a pasto... di pollo, per esempio, a pasto 2, a pasto 4, erano 300 grammi di pollo crudi. Ok? Ok. Ok. E quando andavo a cuocere, magari mi rendevo conto che era 180, così, lui però ne voleva 220, 220 da cotto. Ok, ok. La quota precisa che richiedeva. E ovviamente c'è da dire anche che dipende dove compri la carne. Bravo. Perché se compri la carne al supermercato perderà tanto di più rispetto a che se la compi. Adesso la sto a comprare in una fattoria e mi rendo conto che mantiene diversamente il peso. Ma io la cosa che ti chiedo, perché questa è una tendenza che ho visto, e obiettivamente mi trovo sempre un po'... Cioè, come si organizzano? Cioè, non ho capito come si organizzano questa cosa. Perché tu... Cioè, io immagino, io li vedo che loro si preparano un tot di riso e poi ogni volta vanno a pesare da cotto diretto, che è comodo. Però il problema è che tu veramente ogni giorno c'hai tipo un leftover, qualcosa che ti avanza, il giorno dopo ne devi fare... Cioè, tu in continuazione fai tutto il coso. Continui a cucinare a oltranza quando finiscono le cose. Io, fortunatamente, come ti ho detto, ho fatto la mia conversione una volta. Poi ho sempre fatto i pasti di tutta la giornata, di giorno in giorno. Però credo che se avessi provato a farlo su base settimanale sarei rimasto alcuni giorni digiuno, che probabilmente finivano il riso prima, degli altri giorni chissà quanto ne avrei mangiato. Il discorso è che all'estero, per esempio, a questo Capodanno sono stato a Dubai e sono molto organizzati anche con, che ne so, palestre che hanno all'interno del ristorante, che c'ha il cibo già cotto e poi te lo pesa e quindi, chiaramente, per persone del genere è veramente comodo una cosa del genere. Oppure vai al supermercato, negli Stati Uniti alcuni hanno già... insomma, ti chiamano tipo tavola calda con il riso... Sì, 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 tipo la whole food. Allora è chiaro che loro sono organizzati in modo completamente differente e ha molto più senso per loro un ragionamento sul peso cotto che non su quello crudo. Guarda, io ti posso dire che, allora, qua in Inghilterra la cosa che abbiamo visto è che c'è molto meno la cultura del cucinare. Cioè, tutte, ad esempio, le catene quelle di meal prep, no? Che ti mandano le aziende, tipo il trifecta di turno. Qua ce ne sono infinite che fanno questo servizio. e anche nelle palestre ci sono i piccoli ristoranti che preparano le cose e loro lo sfruttano molto, anche per riso e pollo, banalmente, ma perché di base gli inglesi non hanno la cultura di cucinare. Per fortuna, perché quando vedi come cucinano, cioè, nel senso, loro la pasta al sugo fanno la pasta scotta e ci aggiungono il sugo, tipo in barattolo, mischiano e fatta. Tutti, orca vacca. E una volta Giorgio ha preparato il suo sugo, e quello fatto buono, cioè, nel senso, per carità, senza grassi, però c'è stata le ore, no? A cucinarlo, quello nostro, e sono riuscito a metterlo sul salmone. Ok, che buono, capito, però? Ci hanno sicuramente una cultura differente per il cibo e quindi credo che per questo sia, insomma, credo che questo sia il motivo per cui vanno a pesare poi da... Sì, sì, sì. Comunque, l'aneddoto è che mi sono reso conto di aver sbagliato praticamente sempre con le proteine, nelle ultime due settimane perché mi è stato passato appunto questo contatto di questa fattoria dove, insomma, loro mi portano in palestra il pollo, la carne rossa, eccetera, e mi sono reso conto quando sono andato a pesare per una verifica, sai, sotto gara, a quel punto arrivi, diciamo, beh, proviamo anche questa, effettivamente cambiava tanto, quindi ho mangiato in realtà molte meno proteine rispetto a quelle che avrei dovuto. Nel senso che gli stessi 300 grammi una volta diventavano 240, una volta diventavano 180. C'è una differenza pazzesca, perché non è poco. Se tu consideri la stessa cosa fatta magari su cinque passi, sei passi giornalieri, cambia veramente tanto. E con Neil avevo anche un periodo, cioè lui durante la fase, diciamo, di estremo bulk, diciamo così, avevo un passo anche la notte con proteine che avevo a Vienna, quindi un passo da fare proprio notturno. Anzi, io chiedevo, per esempio, di ravvicinare magari i passi giornalieri e fare questo qui come pre-nanna, invece no, doveva essere fatto un passo la notte, al di là del pre-nanna. Quindi avevo comunque una metodologia molto particolare. Sicuramente se da un punto di vista proteico non stava a basso, diciamo così. Ok. E in preparazione come ti ha accompagnato? C'era una discesa graduale, molto tranquilla, proprio sereno? Sì. Molto, è stata una preparazione, come ti ho detto, veramente tranquilla. Io sono passato, fai da questi 600, va, 700 grammi di riso al giorno, 600, a scaricare. Normalmente facevo tre giorni a 300-400 grammi, tre giorni a 600. Una volta a settimana avevo sempre il mio pasto libero. Probabilmente solo in, forse, tre settimane non mi ha fatto fare il pasto libero, non consecutive. Quindi, per esempio, gli mandavo il check, lui mi diceva se fare o meno un pasto libero. Ok. E probabilmente in tre occasioni distinte mi disse di andare dritto. Quindi, in realtà, è stata veramente, da un punto di vista della dieta, una vera e propria pacchia. Sono sincero, è stato molto, molto tranquillo. Però, ripeto, questo è stato possibile, perché in realtà, anche durante il post-gara, durante la... Io sono stato sempre, sempre, sempre a dieta. Cioè, comunque, su 125 chili, mangiare 600 grammi di riso, è veramente... Cioè, è veramente poco. No, sì, assolutamente. Famme non ne avvertivi mai, perché comunque le proteine erano estremamente elevate. E questo è stato, secondo me, un po' il trucco di... Anche da questo punto di vista. Cioè, uno... Se non soffri fame, sei abbastanza... E vai tranquillo. Poi, sopra il fatto del pasto libero settimanale, è chiaro che tutti siamo atleti, tutti, insomma, siamo più affamati di vittorie che di cibo, però, insomma, farlo o non farlo fa una differenza in tutti che ci giriamo intorno. Ti chiedo una cosa. Questa cosa del pasto libero... Allora, a me ha sempre creato problemi, più che altro in preto, ma non tanto per il farlo, ma proprio per la cosa psicologica. Cioè, del senso, vedevo, ho sempre visto che in una situazione di cut, avere il pasto libero, questo è anche il rebà un po' sgara, avere un pasto libero era più... troppo pensiero. Cioè, stavo là, ci pensavo che cosa mangiamo, poi va al ristorante, ordini, guardi il menù. Cioè, l'ho sempre vissuta male, al punto che ho detto, guarda, preferisco magari fare o un refeed programmato, stare un po' più alto, eccetera. Questo ti parlo soltanto al discorso psicologico. Tu invece l'hai tenuto tranquillo, l'hai sempre vissuto bene? Ti sono sincero, io con il cibo ho un rapporto molto particolare, nel senso che questo pasto libero veniva fatto perché mi veniva detto fai questo pasto libero. È un qualcosa che in realtà da qualche anno non ci vado neanche più tanto appresso. All'inizio, di quando ho iniziato a fare un po' di billing, le diete, come un po' tutti, c'avevo il mio pasto libero, ci pensavo molto, stavo probabilmente tre giorni a pensare cosa avrei dovuto mangiare quel giorno, giravo in Instagram, vedevo le pagine, ci siamo passati tutti. Però negli ultimi anni no, sono proprio tutto con zero. Di questo sono molto contento perché ritengo che sia una fortuna per risoggettivamente non essere focalizzati sul cibo per uno che deve fare bodybuilding, lo deve fare di professione, insomma tanta roba, preparazione e tanta roba. Con questo non sto dicendo che non mi piace mangiare o non amo alimenti, eccetera, però riuscire a non pensarci o comunque farlo perché tra virgolette te lo dice il coach e quindi secondo me non che mi sento autorizzato ma lo vedo come lasciami passare il termine sensato all'interno della programmazione perché me l'ha detto lui se ci fosse quasi una motivazione per cui lo devo fare allora lo faccio per più tranquillità sapendo che tutte le settimane quindi vedendo tra virgolette l'andazzo riesci a farlo anche molto più moderato rispetto a chi dice il passo libero non esiste e altra cosa importante ho visto che questa cosa del passo libero non era un contentino da parte di Neil perché come detto prima di incominciare la programmazione all'inizio facemmo una video call e lui durante la video call si è voluto far spiegare la gestione diciamo dell'ultimo anno durante l'off season nel pre contest io ho detto guarda io sono stati anche dei periodi dove il passo libero facevo a giorni alterni per esempio durante la fase di bulk nel pre contest ogni tanto mi veniva concesso in base alla forma non rispondo male però lui si mise le mani proprio nei capelli nel senso disse per me il cheat meal non serve a niente non va affatto quindi lui ebbe addirittura un approccio molto molto old school quando lui in realtà poi me lo concesse io come se avessi collegato me lo fa fare perché ha capito che devo farlo poi mi sono come ti ho detto mi sono confrontato con un po' di atleti tra cui anche un un open italiano posso fare nomi sì 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 con Dario Paolozzi che è pure seguito da Neil e lui mi disse che in realtà al contrario insomma di come ha fatto come lui l'ha tenuto praticamente senza cheat meal per mesi 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 e mesi e quando gli diceva di fare il cheat meal era carne rossa e patate quindi a te ti diceva che cosa mangiare al cheat meal o era proprio no no mi diceva solo cheat meal o big cheat meal dove big cheat meal significa fai un po' punto di vista non ti dico sempre contenuto ma non ho mai fatto eccessi particolari ok interessante tra l'altro un cheat meal lo facemmo anche insieme a due settimane dalla gara che lui venne qui per motivi di sponsor a Milano quindi andammo a fare questo cheat meal insieme però poi ecco il paradosso è che in altri momenti perché lui è stato qui tre giorni sono andati a cena forse due nell'altra occasione nonostante fossimo stati mandati in un ristorante da presti con la grammatura del mio riso la grammatura della mia carne lui quasi si indispettì che io a presto non avevo la bilancia per poter grammare ciò che mi stava arrivando al ristorante quindi il paradosso è che magari la sera prima ho mangiato cimile patate eccetera e il giorno dopo invece c'è stato un ritorno al rigore particolare oppure io sono stato da lui due settimane a Las Vegas scorso anno e insomma secondo me è memorabile andare da Cheesecake Factory e non ordinare una cheesecake non te l'ha fatta per lui no no lui ordinava lui riso e salmone e a casa quindi diciamo particolare ecco il fatto che quando quando mi diceva sto cheat meal lo facevo perché me lo diceva lui capito per me da punto di vista di questo il cibo è un po' più una benzina che altro certo certo e da là hai cambiato per le ultime gare hai shiftato con Patrick con cui avevi già fatto dei video comunque hai in contatto diciamo che la storia è stata questa io ho notato molta molto incongruenza tra la gestione che abbiamo avuto durante l'anno e l'ultima settimana prima della gara e che il problema è che chiaramente avendo io anche solo minima esperienza sicuramente non come quella di questi coach però seguo degli atleti diciamo che sono abituato a cercare di non fare estremi stravolgimenti nell'ultima settimana perché altrimenti questo significa solo due cose o che ho un metodo mio che io voglio applicare ad ogni costo oppure l'atleta è molto in ritardo e allora se l'atleta è molto in ritardo probabilmente è meglio dire guarda se è in ritardo non gareggiamo invece se se tu hai un metodo devi anche capire che probabilmente quel metodo non funziona allora le spiegazioni che mi sono dato è se inizio programmazione quindi come ti ho detto proprio lontano luglio 2022 mi viene consegnato un piano con 300 di carbo e secondo lui quelli sono alti carboidrati significa che lui ha un metodo per cui poi si ritorna nella settimana pregara ed è come se tutto l'anno e due mesi di collaborazione non ci fosse stato ma direttamente si è andato a fare l'ultima settimana con una metodica molto standard scaricare molto di più rispetto a quello che avevamo scaricato nel pre contest cioè se io sono andato in gara scaricando a 300 e ricaricando tre giorni e ricaricando tre giorni a 600 e poi mi viene dato il pasto libero al settimo giorno non ho tanto capito il fatto di scaricare veramente tanto nei primi tre giorni e ricaricare praticamente zero negli ulteriori tre hai perso mi ricordo avevi perso tipo 7 kg una roba assurda ho perso 8 kg e mezzo in 7 giorni e mi sono ritrovato a fare il primo giorno di ricarica insomma e anche il secondo in realtà intorno ai 400 grammi di riso che come ti ho detto era un quantitativo che io utilizzavo in scarica con dei drenanti ai quali io rispondo molto male ed era un qualcosa che avevo più volte comunicato messi da tanto tempo prima quindi forse dal giovedì mattina e sera mattina e sera i liquidi che erano stati messi prima tanto alti poi tanto prima tanto alti poi scaricati secondo me in concomitanza appunto a questa diuresi artificiale il mio fisico è un po' imploso quindi ovviamente ci può tranquillamente stare il fatto di sbagliare una gara il problema è che ho iniziato a non essere più sereno e sicuro perché anzitutto avevo rivisto una situazione analoga l'anno precedente quindi ho detto cavolo io arrivo la settimana prima che sono sempre bene poi non riesco mai a salire in forma perché c'è qualche problema insomma delle ultime ore e poi perché poi comunque confrontandomi mi venne praticamente riproposta più o meno la stessa gestione cioè mi era stata prospettata comunque una gestione molto simile ok è come se avessi inteso ok lui ha un metodo della settimana pregare lo applica e basta per l'amor di Dio se Becca Brandao gli va molto bene e gli è andata molto bene in tutta la carriera per carità io credo di non rispondere bene così e non essendomi non sentendomi più al sicuro diciamo così ho voluto ho voluto delegare ad altre persone anche perché credo che la cosa più sbagliata che possa fare un atleta è quella di interpretare il piano e modificare quando ho ricevuto la programmazione ho visto che ci sarebbe stato qualcosa ho posto i miei dubbi e riportavo i miei feedback credo che più di questo io non avrei potuto fare più di questo che ho fatto avrei dovuto soltanto dire sai che c'è di nuovo questa roba non la inizio il giovedì ma l'inizio il sabato i liquidi al posto di scaricarli così li scarico così e il cibo mi rimetto a 600 e almeno non sbaglio niente non avendo voluto appunto manipolare nulla per poter effettivamente vedere a cosa si andava insomma ad apparare il risultato finale privo da ogni tipo di giochetto mio non è stato secondo me ottimale per nulla nei giorni successivi mi sono confrontato e ho appunto appreso che praticamente sei settimane dopo avremmo riprovato comunque una roba e quindi ho sentito Patrick in realtà con Patrick avevo chiesto semplicemente delle informazioni per per l'off season perché avrei voluto cominciare dopo le gare pensando che non si sarebbe che non avrebbe potuto prendersi la responsabilità di seguire un atleta a poche settimane pensando che insomma ecco probabilmente voleva valutare o altro ho chiesto informazioni direttamente per l'off season poi durante la conversazione andavamo comunque spesso ad apparare alla gara e io chiaramente ho detto Patrick io comunque chiaramente non te l'ho chiesto per queste ragioni ma se tu sei disponibile a seguirmi ne sarei molto contento perché sicuramente incominciamo insomma a vedere come risponde il mio corpo in un periodo importante magari ci troviamo avvantaggiato gli erano successivi e quindi poi alla fine la storia è andata così perfetto e con Patrick quali cambiamenti hai Patrick secondo me è stato molto intelligente nel senso che ha fatto lui dice delle modifiche minime alla programmazione che io già stavo seguendo certo per non stravolgere non è andato direttamente sul suo metodo ma mi ha accompagnato per evitare di spostare troppi equilibri comunque a poche settimane da una gara mancava un mese 15 ottobre forse ho ricevuto il piano e la gara il 12 novembre quindi meno di un mese e adesso sono molto intelligente nella gestione dell'ultima settimana perché lui praticamente rispetto al piano che io ho utilizzato per andare in gara non ha toccato niente niente ha modificato giusto l'apporto di acqua nel giorno prima e nel giorno stesso della gara scusami rispetto al piano intendi rispetto alla settimana 2-3 weeks out l'ultima settimana più o meno bello lui mi ha considerato il piano che mancavano forse 5 settimane chiaramente omnicomprensivo l'alimentazione che io ho più o meno utilizzato per arrivare in gara quindi le fonti proteiche il quantitativo di proteine di grassi di carboidrati è stato mantenuto totalmente invariato anche nella settimana di picco dove non ha fatto alcun tipo di variazione non ha inserito alcun tipo di drenante esogeno niente zero e quindi io sono andato in gara al massimo delle mie potenzialità in quel momento cioè chiaramente con una condizione che sicuramente lui si è ritrovato e lui avrebbe comunque fatto diversamente come mi ha detto chiaramente ma non ha rischiato diciamo così di rovinarla facendo dei giochi che tu puoi fare quando l'atleta lo conosci bene quindi ho apprezzato molto diciamo questo suo approccio perché effettivamente sono andato in gara molto sereno sapendo che io la sera andavo a dormire con un certo grado di bellezza e la mattina dopo non è che mi svegliavo totalmente imploso come invece succede se sbagli con certi equilibri questa è una tendenza che vedo alcuni preparatori hanno forse un po' più old school del dare molta importanza alla pickwick a livello di cambiamento cioè della serie arriviamo in un modo poi in pickwick estremizzo tutto a livello di ti carico il più possibile ti scarico il più possibile l'acqua ti utilizzo di drenanti questo e quest'altro perché cerco di massimizzare poi inizio a cercare di giocare anche non soltanto sull'inserire un drenante eccetera ma anche di giocare su diversi sali quindi il potassio risparmatori di potassio poi ci metto magari un moduretik questo e quest'altro cioè giocare un po' con tutte le variabili con cui posso giocare per ottenere tutto quello che posso ottenere però io ho sempre visto che è probabilmente proprio essendoci così tante variabili e tante variabili che non puoi considerare come orari della gara spostamenti risposta dell'atleta problemi gastrointestinali qualsiasi cosa e il discorso che ci può essere arrivo in una certa condizione prima e se la settimana prima della gara sto bene che sto pronto devo giusto scaricare quel filo d'acqua per avere un effetto un po' più dry magari inserire una piccola ricarica o un pasto libero se è e vado assolutamente sono anche io più per questo tipo di approccio perché sulla mia pelle ho visto più volte un ottimo lavoro devo dire la verità perché poi uno se no sembra che vuole solo sputare dove ha mangiato un ottimo lavoro durante tutto l'anno e poi magari degli errori fatti delle cose che sono figli del fatto che comunque era una prima gara questo sicuramente certo e quindi una pickwick che va a danneggiare il grosso lavoro fatto per prima però forse da quello che hai intuito e quello che fai passare e su cui io sono molto d'accordo è proprio il problema non è stato lo sbagliare la prep il problema è avere davanti un muro cioè un qualcuno che non ascolta il tuo feedback e tu dici cazzo cioè se è così vuol dire che sbagliare pure le altre prep cioè non mi sento al sicuro sì diciamo che lui caratterialmente come ti ho detto è molto inflessibile molto molto quadrato che chiaramente è un pregio ma può anche essere un difetto certo la questione dei feedback diciamo sicuramente i feedback vanno interpretati con un atleta che è professionista probabilmente i feedback devono pesare un po' di più ma il problema è che banalmente se io vedo la bilancia che è ok ho un dato però se io a lunedì peso 118 119 chili e la domenica il sabato ne peso 110 devo capire che c'è qualcosa di strano che è successo chiaramente non ho perso 9 chili in una notte ma è stato un qualcosa di graduale poi devo capirlo prima capito poi le foto chiaramente ti possono ingannare la verità quella gara ho avuto un'implosione muscolare però la vita mi si era fatta veramente molto piccola e quindi in realtà non ero così male in foto ok ok non sembravo male quindi diciamo forse anche la distanza sicuramente sono delle cose che mi aiutano sicuramente non vogliamo nel senso è per far capire un po' alle persone quelle che possono essere dinamiche che stanno dietro un rapporto coach atleta per far capire meglio quelle che sono tutte le sfumature ecco però è chiarissimo e invece avete fatto la gara con Patrick e da là avete fatto la fase di rebound quindi diciamo da quel punto Patrick è subentrato come è subentrato Neil all'epoca e da là che differenze hai notato nell'approccio allora in entrambi i casi molta attenzione alla salute dell'atleta sì molta molta attenzione alla salute della serie ci fermiamo queste x settimane piuttosto che continuare la preparazione e andare su come spesso si vede 15-20-25 kg io in realtà ho mantenuto il mio peso gara per otto settimane fermando qualsiasi tipo di supplementazione chiaramente questo da un punto di vista come dire psicologico un po' approvante ma soltanto parlo del mio caso perché c'è il confronto con gli altri atleti quindi vedere un atleta che magari sul palco era più o meno il mio stesso peso e dopo otto settimane pesare 20 kg in più invece magari ne peso tre in meno ancora della gara dici cavoli io ho perso il tempo poi in realtà in realtà impari a capire quando questa cosa ecco già un secondo anno che viene fatto e tutto che non hai perso il tempo ma hai investito del tempo hai investito in maniera in maniera più che profigua perché dopo quando riprendi la preparazione sei veramente molto 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 recettivo e quindi in realtà senza fare cose folli ti posso assicurare hai una risposta veramente eccezionale complicata quindi ho visto molta molta attenzione come ti ho detto all'aspetto della salute e in entrambi i casi quindi sia con con il lo scorso anno sia con Patrick un'attenzione non a far crescere l'atleta in sei mesi dodici mesi perché c'è la gara perché così se tu fai bene la gara io ritorno economico ritorno di popolarità oltre che tu mi confermi tra virgolette come tuo coach perché sei andato bene in gara bensì una pianificazione a lungo nel lungo periodo cioè per esempio anche ok la collaborazione si è conclusa mi sosteneva sempre che avremmo dovuto continuare a lavorare sulla sezione addominale miss action miss action diciamo sempre insomma queste parole per sottolineare l'importanza anche negli open di portare un addome contenuto perché in questo modo qui chiaramente se sei dotato di una buona linea te la puoi giocare senza necessariamente dover pesare 140 kg poi sul palco certo questo infatti è stato anche poi se ci pensi il punto vincente con Brandao che ha chiaramente parecchi meno volumi di altri atleti ma se li metti dietro perché poi effettivamente è fatto molto bene a alcune pose dove questo è è bello che l'hai toccato perché ne ho parlato col podcast con Giacobbi e che lui con Jansen stiamo lavorando insomma tutti insieme su Muzzi e la grande differenza che ho notato proprio con Giacobbi è stata questa e che insieme a Matt e questo è un discorso che ho già fatto da Andrea la prima cosa è stata devi star fermo e devi investire tempo perché se continui a cercare di gareggiare tutti gli anni ma perché perché così ti è stato insegnato a fare cioè l'atleta c'è un po' questa tendenza che ho visto l'atleta esiste solo in preparazione l'off season è come se fosse una pausa tra una gara e l'altra tra una prep e l'altra e quindi molti atletici hanno questa difficoltà a vedere l'off season come una fase proattiva di effettiva costruzione non del ok dai prima mostra così prendo massa prendo volumi eccetera e posso tornare in preparazione ma proprio una fase che ok faccio le cose per benino devo crescere devo avere una pianificazione devo portare questi stretti faccio un passo indietro perché adesso infatti ti volevo chiedere hai fatto un piccolo delodo alimentare no mi faccio un passo indietro per poi farne uno ancora avanti quindi è tutta una struttura che puoi portare avanti a cui ti ci puoi dedicare con calma e sì quello che dico quello che dico sempre è che comunque anche a meno che insomma non fai parte di quei forse di 15 eletti al mondo chi è diciamo normodotato nel senso che sicuramente non sei un proprio fenomeno i risultati si vedono sul lungo lunghissimo periodo pertanto correre a dover gareggiare necessariamente entro due mesi tre mesi sei mesi alla fine non fa altro che farti peggiorare levarti tempo su invece delle fasi che ti possono effettivamente migliorare come atleta oltre che al fatto che oggettivamente ti fai del male ti fai parecchio più male quindi sì assolutamente quindi avete fatto questa fase e queste otto settimane l'alimentazione è stata gestita immagino Patrick molto preciso pure lui senza shit Patrick su shit meal è più preciso di meal decisamente lo era sia a parole sia poi nel pratico abbiamo fatto otto settimane dove c'è stato uno scarico proteico ok dove i carboidrati invece sono stati aumentati rispetto chiaramente al pre contest ma non a cute esagerate ecco probabilmente stava intorno ai 600 grammi di riso al giorno roba così i gasi un po' più alti del pre contest e le proteine decisamente più basse di quelle che avevo avuto durante la gara poi come allenamento mi sono allenato due giorni sì un giorno no due giorni sì un giorno no con un push pull legs poi facevo le braccia separate quindi così a rotazione due on un off due on un off il cardio praticamente sempre è stata una vera e propria rivoluzione da un punto di vista proprio salutistico devo dire tra il cardio e comunque il cercare di essere più attivo non ho un un net minimo da seguire però sono io che mi attivo insomma a camminare a digiuno eccetera ed è un qualcosa che mi ha veramente migliorato a 360 gradi la vita battiti cardiaci rispetto all'off season dell'anno precedente molto più bassi pressione a posto cioè veramente tutto un altro e poi appunto dopo queste otto settimane abbiamo fatto gli esami abbiamo valutato di riprendere di cominciare una preparazione di off season finalizzata poi a a cercare di gareggiare insomma nella seconda parte di quest'anno ok questo come hai detto prima tu non ho minimamente posto dei limiti nel senso io ho detto lavoro scegli tu quando si gareggia quando secondo te possa essere competitivo non voglio affrettare alcun tipo di fase quindi abbiamo fatto questo season adesso sono alla settimana 8 9 forse e diciamo nelle prime 6 settimane ci siamo concentrati molto sul cercare di aumentare la forza mi ha proprio come fatto ripartire dalle basi cioè come immaginati di prendere un ragazzo che 16 anni che si deve allenare non ti voglio dire scut panca e stacchi perché assolutamente no però comunque una ritrovata importanza di alcuni esercizi e con proprio un'indicazione a cercare di spingere più carico possibile ok questa fase diciamo lo abbiamo dovuto leggermente rallentare intorno alla settimana 5 perché ho avuto un piccolo infortunio al pettorale su panca inclinata al multipower ok e continua diciamo a darmi noie io ho fatto uno strappo al pettorale sinistro quattro anni fa per fortuna invisibile su panca inclinata libera e adesso con multipower idem un'altra piccola lesione insomma mi porta da un mesetto c'è stato quello poi c'è stato un improvviso aumento di peso quando abbiamo ripreso la preparazione sono passato da 115 a 130 in due settimane e poi è aumentato da 130 a 134 nelle ulteriori 3-4 settimane quindi tutto questo peso preso insieme io soffro molto nella zona dei lombari lower back pain proprio non riesco a stare in piedi credimi ed è diventato insomma è stato un periodo tragico perché non riuscivo a camminare quindi il mio cardio al mattino non riuscivo a farlo andavo in palestra per fare la siglette ma ci andavo in scooter in quel periodo mi hanno rubato lo scooter quindi c'è stato 3-4 settimane in cui il mio nerd è stato praticamente zero e quindi ho visto veramente peggiorare proprio il mio stato fisico non tanto in termini di composizione corporea ma proprio in termini di affaticamento 134 133 134 kg senza praticamente muoverti mai è stato veramente dura 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 nel contempo è venuto anche un po' meno l'appetito abbiamo fatto un cambio di preparazione un cambio di allenamento riportandoci invece con un lavoro più metabolico quindi lui ha voluto fare nella fase off season rispetto al rebound avete alzato le calorie sì molto 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 abbiamo rimesso praticamente le proteine diciamo alte e nel contempo abbiamo aumentato tanto sia i carboidrati che i grassi ok io ho le calorie precise che stavo mangiando fino a settimana scorsa non le ho contate ma occhio e croce siamo secondo me sicuramente sopra le 6000 ok quindi bella spinta sì avevo carboidrati intorno fai tra gli 800 il chilo lordi al giorno grassi tanti c'è forse 130 grammi al giorno 120 grammi al giorno e proteine comunque alte 200 250 di carne insomma pollo pesce per pasto più passi giornalieri tanta importanza al post workout quindi diciamo sì le calorie sono state molto alte e come ti ho detto nella prima fase della preparazione abbiamo lavorato con appunto più delle fasi di forza diciamo così ho comunque tanta importanza alla forza nella seconda parte invece abbiamo inserito dei lavori più metabolici che lui vuole che comunque vengano fatti con carichi molto elevati quindi lui il famoso SST lo va diciamo così un po' a spacchettare su tutto l'allenamento non c'è più quella serie molto lunga insomma che tutti abbiamo visto su youtube ai vari seminari e tutto ma viene proposta su più esercizi quindi c'è la serie dove c'è la serie la serie dove ci sono negative forzate insomma è un metodo che mi piace molto che mi sfida molto perché tu insomma lui ci tiene a tenere un logbook a cercare dei progressi in allenamento esatto quindi metodologia per me nuova con la quale mi sono trovato molto molto bene devo dire la verità devo imparare probabilmente a scaldarmi meglio perché il fatto di partire con la prima serie bam tutto quello che hai devi arrivarci devi arrivarci sì sì secondo me su alcuni esercizi probabilmente sarebbe meglio partire un po' più piano tipo la panca inclinata così per dirne uno eh bravissimo quella quella non la farò mai più guarda ok però no mi sto trovando molto bene ho visto il fisico veramente cambiare e per la prima volta probabilmente ho visto il mio fisico cambiare in base proprio ai diversi stimoli dati dall'allenamento e non dai tagli calorici cambi di preparazione cioè nel momento in cui io sono passato dalle prime sei settimane dove lavoravo con fai otto serie di allenanti con ripetizioni basse nel momento in cui sono passato a con un lavoro più metabolico visto proprio il corpo esplodere cambiare questo è bello molto bello sì 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 io sono molto a me piace molto l'SST la filosofia in generale Patrick la utilizzo molto la faccio utilizzare quindi mi ci ritrovo alla perfezione da quel cambio proprio anche a livello metabolico di struttura anche muscolare di pasta muscolare di capacità di utilizzo dei nutrienti che è veramente sensazionale è molto è molto pensato è molto pensata la programmazione dell'allenamento la periodizzazione cioè lui all'inizio dopo che sono tornato dalle gare ho voluto incontrarlo io comunque ce l'ho a praticamente un'ora no sì ho voluto incontrarlo per poterci insomma un po' confrontare anche su cosa poi fare durante l'anno e quant'altro e lui già aveva in mente chiaro primo fase faremo un bulk di 12 settimane poi faremo questo poi faremo quello lui mi disse dopo 6 settimane mi implorerai di abbassare la dieta non siamo arrivati a 6 noi siamo arrivati a 8 però sì tendenzialmente effettivamente nelle ultime due settimane ero andato in difficoltà perdevo sensibilità insulinica io mi facevo misurare la glicemia diciamo al mattino effettivamente vedevo che nelle ultime due settimane stavo andando un po' in alto l'aumento calorico te l'ha fatto di botto quindi sì io ho ottenuto le stesse le stesse calorie dalla settimana 1 alla settimana 8 poi ci siamo risentiti scorsa domenica quindi 5 giorni fa 4-5 giorni fa dopo dopo l'Arnold ci siamo sentiti e lui mi ha mi ha detto che comunque ha voluto fare ha voluto tra virgolette fare un off season poco ragionata da un punto di vista calorico senza andare troppo per il sottile perché avevo bisogno effettivamente di fare una fase di costruzione dove lui non ha voluto sì non ha voluto rischiare tra virgolette di non farmi crescere perché comunque voleva sfruttare al massimo questa fase mi ha altresi detto che ovviamente qualora noi poi dovessimo continuare la nostra collaborazione dopo le gare le off season saranno sicuramente diverse e la mia risposta fisica sarà diversa certo perché ci sarà meno bisogno si spera spero di costruire in questo modo quindi adesso avete fatto un passo indietro diminuito le calorie e sta meglio probabilmente una settimana o una settimana probabilmente poi ci dobbiamo riaggiornare sì mi sento meglio incredibilmente non mi sono pesato ancora però abbassando già soltanto da quattro giorni la dieta la schiera è rinata cioè sto di nuovo bene che riesco a camminare quindi probabilmente erano quei due tre chili proprio che gravavano tanto da questo punto di vista sì anche l'aumento improvviso sì sì io ero arrivato l'ultima settimana che ci mettevo un'ora a fare colazione quindi anche da un punto di vista proprio sociale lavorativo gli appuntamenti io facevo tardi per mangiare quindi no no queste sono cose che secondo me dovrebbero essere sottolineate perché ti parlo noi in Italia e tu comunque ti rivolgi anche agli italiani soprattutto agli italiani penso noi abbiamo tanto l'idea di voler abbracciare uno stile di vita ma non ci vogliamo prendere responsabilità delle nostre scelte bellissimo quindi quando noi quando noi andiamo a fare bodybuilding in un certo modo dobbiamo sapere che pesare 130 chili ma anche non 130 anche 110 anche 100 non è fisiologico e per queste scelte noi avremo delle conseguenze non necessariamente parlo di cose chissà quanto insomma pericolose o altro sì sì però effettivamente se tu ti aspetti di avere non so il respiro la notte di una persona di 70 chili devi sapere che non è così in Italia c'è molto tabù nel parlare di apne notturne di chip up cosa che vedo che all'estero invece molti atleti quando venne Regan in Italia andammo a cena fuori la prima sera che lo andavo a prendere all'aeroporto lui subito mi disse ho dormito male che ho dimenticato la chip up certo primo approccio con una persona completamente sconosciuta qua se io dico che ho la chip up che poi magari non la utilizzo sempre perché mi è scomoda sembri un malato terminale no bisogna a fronte di alcuni tipi di scelte di vita ovviamente ci saranno delle conseguenze e soltanto in parte queste conseguenze possono essere mitigate anche dal coach voglio dire questo lo vedo anche su di me io in Italia non posso rispondere come rispondono all'estero i vari Patrick i vari Nil perché altrimenti i tuoi atleti e i clienti i ragazzi li perdi tutti ma la realtà è che molto spesso la risposta non può che essere pazienza mi fa male la schiena perché peso 135 chili ma sono alto 1,75 pazienza che vuoi fare se devi fare l'open devi per forza fare la fase di crescita se hai la schiena che non riesci a reggere questo peso ma ok perché pesi tanto in parte il coach ti può dire che ne so ok non fare gli stacchi esatto ripetiamo il piano ma se ti fa male la schiena perché stai in piedi così la risposta non può che essere dovresti perdere 10 chili ma questi 10 chili per fare il percorso che tu mi hai richiesto di fare non li puoi perdere no questo guarda hai detto delle cose guarda io ti dico la verità io ho un grande cambiamento c'è una grande differenza che vedo in Inghilterra rispetto all'Italia proprio che non c'è non essendoci questo mertà in realtà tu hai parlato della CPAP ma qua sulla CPAP cioè sono dei fanatici cioè se scambiano modelli parlano è tipo una cosa fighissima no come su ma ti giuro no se c'è il modello allora come fare di qua di là e io una delle prime cose che ho fatto qua perché mi hanno subito indirizzato sono andato dal GP e mi ha fatto fare la polisomnografia per vedere l'apnea e tutto il resto anche perché poi apnea notturne ematocrito che si alza emoglobina che si alzano quindi tu molto spesso ematocrito emoglobina invece ti fai salassi eccetera se c'è cazzo delle apnea notturne le risolvi e ti si abbassano già quei valori e la stessa cosa che hai detto inizio a capire che devi fare il tuo cardio e devi fare cardio non mi metto sul tappeto e faccio la passeggiata mentre faccio cardio per portare battiti a un certo grado e lo faccio durante le fasi di off-season non solo per dimagrire ma per tenermi attivo per tamponare salute quindi la gente pensa sempre un po' a le cose facili no tutta la parte più bella eccetera e hai fatto la storia del discorso avevi detto quando hai detto che abbassavi la calorie che hai detto mi fa bene psicologicamente abbassare le calorie perché la gente molto spesso passa questo messaggio vedendo questi che mangiano 6.000 calorie quindi adesso molti che hanno visto il podcast dicono che figata Roberto 6.000 calorie allora che mangio così ci mettono ora a fare colazione che figo che è ragazzi fatelo per 8 settimane poi mi dite credo che tu confermerai rispetto a fare la fame il force feeding è proprio una roba indecente 100.000 volte è meglio fare la fame la gente la gente non se ne rende 100.000 volte meglio anche ti ripeto da un punto di vista proprio della tua vita tu sei comunque meglio svegliarsi alle 6 del mattino che aver bisogno delle bombe alle 9 che tu alle 10 che tu vorresti dormire tutto il giorno sei in perenne catalestico alcolettico proprio ma poi parliamoci anche chiaro il problema è che oggi ci sono tutti questi full day of eating dei tiktoker eccetera dove si si mangiano 6.000 calorie ma di roba che nel bodybuilding vero non si mangia allora tu ti vuoi mangiare 6.000 calorie 6.000 calorie di riso in bianco e petto di pollo cotti la sera prima cioè non è simpatico per niente sì allora guarda io sono sempre per l'idea di cercare di rendere l'alimentazione quanto più varia possibile quindi frutta diverse fonti cereali e tutto però ovviamente là io vedo che da una parte si tocca un estremo nel senso che poi nella maggior parte dei casi dico finché c'hai 18 anni ok 18 anni abbiamo avuto tutti quanti e ti mangi le schifezze ti fai una giornata 6.000 calorie è una cosa che fai non hai ripercussioni e tutto ma quando sei un atleta professionista che deve fare il suo lavoro queste cose non le puoi fare quindi ovviamente c'è una bella differenza tra questo io ti ho detto io ti ho detto il riso e il pollo per dire no sì sì certo gli alimenti non sono densamente e quindi riuscire a buttare giù tutte quelle calorie per tutte quelle calorie per tutti i giorni non è facile soprattutto se tu per esempio inizi ad avere una routine non perfettamente scandita per cui magari il giorno che ti puoi svegliare un'ora dopo cioè tu banalmente non puoi non puoi tu dici no domenica voglio riposare perché tutta la settimana non puoi perché è come se fosse proprio un lavoro se tu vai ad avvicinare non è una questione che uno vuole tenere il timing perché è malato ma è semplicemente quindi magari troppo perfezionista e che tu con certi tipi di insomma con certi tipi di nutrizioni non riesci proprio a mangiare ogni due ore proprio non ce la fai perché le calorie sono troppe chiaramente come l'obiettivo per un professionista è importante e uno vuole fare tutto il possibile per riuscire a raggiungerlo è chiaro che devi sacrificare in questo caso anche l'ora di sonno per mangiare che sembra una follia ma la verità ma guarda io ho questa tu poi sicuramente hai avuto tanta esperienza parlando con altri professionisti eccetera io ho sempre visto che un po' il limite per i professionisti poi in particolare gli open quelli che pesano di più però un po' in generale in fase di spinta calorica è proprio la capacità di mangiare cioè arrivi sempre a quel punto in cui dici ok dobbiamo andare indietro perché? perché a livello gastrointestinale non ce la fai a livello anche di gestione insulinica non ce la fai ma non perché cioè io dico sempre ci sono divisi come discorsi cioè un conto è le energie di cui tu avresti bisogno un conto poi è la capacità gastrointestinale per assorbire e un altro conto è la capacità pancreatica per produrre abbastanza insulina per quelle energie cioè non è che se ne hai bisogno come ti digerisci bene il pancreas ci riesce perché? perché ha un bisogno forzato che il corpo non vuole e quindi la capacità di mangiare si scontra sempre su questo che è il motivo per cui bisogna fare dei passi indietro ma poi come hai detto tu il problema è la ripetitività perché quando mi è stato dato il piano io i primi giorni avevo quasi fame perché venivo dalla pre contest e poi comunque da una dieta abbastanza rigorosa riprendo la preparazione avevo quasi poi questa colazione mezza dolce mezza salata mangiavo con gusto quando poi sono andate avanti le settimane ce ti assicuro finivo sto pasto poi dopo dovevo prendere gli integratori magari della mattina e io dovevo aspettare magari mezz'oretta di prendere per bere l'acqua per l'integratore altrimenti altrimenti veramente rimettevo ma mi dici che è questa colazione perché stai scrivendo come un inculio colazione colazione mangiavo non dico quantità però vabbè mangiavo crema di riso e pane tostato come fonte di carboidrati ok poi mangiavo delle uova intere albumi e manzo ok mangiavo burro di mandorle banane mirtilli e proteine poi isolate ok sto scherzo quindi facevo facevo un porco un mega porridge ok e poi i toast uova e manzo ok ok beh comunque mi dai il senso prima il salato e poi il dolce ma ti posso assicurare che i primi giorni ok si fa e si fa con gusto poi dopo diventa veramente complesso no ci credo ci credo porca manca poi lo stesso pasto praticamente simile nel pre-run ok ok è impegnativo che tu arrivi a fine giornata che dici cazzo ci sono riuscito e l'unica cosa che pensi cazzo domani devo dimostrare tutto da capo dalla settimana dalla settimana due alla settimana sei sette questo pre-nana veniva fatto sempre quindici minuti dopo ok sono arrivato a fare che facevo l'ultimo posto alle tre di notte qua c'è e poi dopo non ti riesci a svegliare cioè guarda che complesso no 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 calcola che c'è qua in Inghilterra c'è Dave Crossland che è un non dico un ex culturista amatore no che è noto perché è proprio ossessionato molto con il peso era e lui adesso gestisce Ival oppure in testo di stato che sono quelli che fanno le analisi del sangue quindi loro stanno ogni mese fanno le analisi bel servizio e tutto e lui proprio era ossessionato col diventare quanto più grosso possibile ma quel grosso proprio da strongman schifoso no e lui diceva che aveva tipo otto pasti faceva tipo i primi cinque e gli altri tre era tipo un ciotolone di riso e tutto il resto mischiato e ogni tot andava e vendeva un cucchiaio era praticamente un unico pasto che si smalmava in diversione faceva diecimila calorie al giorno per le fasi di bulk e tutto ero ossessionato però sì diciamo bisogna arrivarci senti allora guarda ti voglio chiedere le ultime cose per lasciarti andare non voglio date perché non voglio chiederti date ok la cosa che ti voglio chiedere è come ti senti per le prossime stagioni per questo prossimo percorso cioè come la vedi che sensazioni hai dici un po' allora la sensazione è positiva rispetto agli scorsi anni mi vedo proprio più bodybuilder open ok sono sincero mi vedo meglio negli scorsi anni sono sempre stato non scaramantico ma è proprio il mio pensiero del mio modo di essere non ti voglio dire umile ma con i piedi per terra sicuramente nel riconoscere che effettivamente ci sono tanti atleti buoni tanti open buoni e se diciamo se mi parli di piazzamenti alle gare che poi alla fine chiaramente i fan i follower è l'aspetto principale che loro guardano direi che dipende molto uno che gara becca perché se per esempio vai a fare la gara in Romania quest'anno la gara in Romania e in una stessa gara ti trovi tre o lì per esempio ecco tu mi parlavi della gara dove ho gareggiato con Brandao io ad Alicante 2020 andrei a gareggiare feci questo esordio ma perché avevo preso la Procard della settimana prima e avevo già il volo direttamente da Londra dove ho preso la Procard ad Alicante dovevo andare comunque e quindi sta gara l'ho fatta era una gara comunque c'era i primi tre andavano all'Olimpia perché era l'anno che c'è stato il covid io mi becco in una gara Olicred Brandao Regan Grimes c'era Andrea Muzzi c'era Mark Hector se non sbaglio c'era anche Dauda c'è capisci c'era Vlad Shukuruko che fece il terzo ma era quell'europeo che ha vinto Olicred bravo ah ok ok ho capito il primo con Patrick All In Shed con Patrick bravo eh no quella era era clamorosa porca puttana Vlad fece terzo call out Vlad è un'altra età che due anni dopo ha fatto l'Olimpia sì 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 non me la ricordo era una roba allucinante anzi sì anzi che doveva partecipare pure di Gramm un anno dopo un anno dopo ha fatto l'Olimpia quindi cosa voglio dirti ti voglio dire che se tu becchi un line up del genere anche con magari 15 kg in più rispetto a quelli che avevo nel 2020 se anche riuscissi a portare per assurdo 15 kg in più on stage con un fisico migliore più lavorato eccetera tu continui a non fare finale sì sì ma non per una tua mancanza quanto perché ti ritrovi su un palco certo che è quello dell'Arnold ok quindi la line up questa è una cosa che chi guarda le gare dovrebbe considerare conta tantissimo conta il livello con cui tu ti vai a scontrare perché se io vado e torno a Falamateur magari vinco la pro card a tutte le gare sì 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 ok però è ovviamente insito nella competizione nella competitività voler fare dei passi avanti e quindi confrontarsi con atleti più più tosti diciamo diciamo che questo periodo è abbastanza interessante nel senso che ci sono tanti belli atleti in giro e c'è tanto e ci sa tanto anche la l'idea degli atleti anche americani di venire a gareggiare qua cosa che non c'è fino a qualche anno fa loro si facevano tra virgolette fatti loro in Europa che poi se tu guardi anche solo in Europa atleti come De Asha lo stesso Dauda cioè Dauda qualificato già qualificato all'Olimpia 2024 è andato a fare due gare qua dopo l'Olimpia ha prolungato la sua preparazione sapendo che poi avrebbe dovuto fare anche l'Arnold quindi ovviamente ti fa diventare il livello della gara veramente molto alto cioè prendi che presti i domani hanno fatto sesto ed è un atleta che ci siamo abituati a vedere sempre sul podio che ha fatto già l'Olimpia quindi la tua domanda è come la vedi da un punto di vista del piazzamento no 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 io lo sai Robby io sono dell'idea cioè ci hai fatto bene a fare queste precisazioni perché purtroppo io sono dell'idea che adesso parlano troppe persone che non dovrebbero parlare di gare e parlano di gare su questo ti rispondo cinque giorni prima della gara quando escono i contratti te lo dico se invece mi dici come la vedi da un punto di vista proprio atletico e tutto io mi sento molto molto sicuro cioè mi sento di dover soltanto fare quello che mi viene dato da fare io lo faccio e lo farei perché bodybuilding professionistico lo si associa al lavoro ma per me è ancora un ambito nel senso capiscimi che lo faccio veramente perché mi piace nel momento in cui io lo associerò solo al lavoro probabilmente smetterò lo faccio con estremo piacere quindi è un qualcosa che io faccio e farei sia se devo fare il mister Olimpia sia se devo fare ultima la gara perché è un qualcosa che io faccio con estremo piacere quindi penso che con queste premesse insomma un miglioramento credo abbastanza buono che ho avuto in queste prime settimane e affidandomi comunque credo al oggi il miglior coach in Europa senza dubbio sulla categoria soprattutto insomma sono molto fiducioso sono più fiducioso da un punto di vista tecnico fisico che magari non nella mia gestione che sono non ti voglio dire insicuro ma non sono molto confidente per esempio col posing non tanto nelle pose obbligatorie ma quanto proprio nella presentazione cioè sono delle sfaccettature che nell'ambito professionistico sono molto importanti soprattutto quando non sei nessuno tu dovresti andare lì fare un proprio uno show e farti proprio riconoscere questo è un qualcosa che ad esempio mi ha detto anche Patrick cioè Patrick ha detto tu già quest'anno quello che ti penalizza tanto più che magari una carenza a livello muscolare che non è non hai particolari carenze è proprio il fatto di non riuscire a essere incisivo sul palco cioè non saper nascondere il difetto e mostrare ciò che è di buono ok certo certo e chiaramente queste cose da una parte fanno piacere perché tu dici ok allora da un punto di vista fisico non sono così male dall'altra forse era meglio avere bicipiti carenti perché saprei più come migliorare questo aspetto rispetto al posing che sì tu anche che prendi la lezione c'è un aspetto di personalità che è un qualcosa di nato poi sul palco cioè nel senso io sono sempre dell'idea che come ci sono persone che hanno una certa struttura e sono avvantaggiate con una certa struttura sono anche persone che sono avvantaggiate nell'avere una certa scioltezza nel posare e poi ti faccio l'esempio io faccio sempre ci sono persone che sanno ballare bene persone che non sanno proprio ballare cioè c'è una genetica e predisposizione anche in quello quindi è inevitabile non avrai mai un Jan Valier che ti fa una front la spread bella aperta spettacolare e Dauda lo vedi cioè che cazzo gli vuoi dire quello non ha sciolto c'è la nel sangue c'è la nel sangue c'è la nel sangue bene no sono contento sono contento ti sento molto carico molto bello convinto del percorso mi piace questa sinergia che ci avete con Patrick e sono sicuro che ci regalerete tante belle cose quindi io vi osserverò vi controllo passo passo perché sono molto molto curioso sono sicuro che anche tutti gli altri lo faranno bravo bene grazie Robby io ti ringrazio per questa chiacchierata e la rilascerò tra poco e niente se vuoi salutare vuoi dire qualcosa sul finale io ho tato le presentazioni l'avrò già fatte a questo punto quindi avrò metterò tutto tutto quanto e insomma ti conosciamo tutti quanti quindi è inutile che vado sulle presentazioni però se vuoi dire qualcosa sul finale per i ragazzi niente ti volevo ringraziare dell'opportunità anzitutto perché comunque hai anche un pubblico diciamo diverso dal mio quindi in realtà secondo me tante persone magari non mi conoscono e mi conosceranno e di questo ti voglio veramente rendere anzi tra l'altro voglio ringraziare faccio un piccolo spoiler e nulla voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare le mie parole i miei aneddoti e diciamo i miei racconti su questo mio viaggio spero di poter essere utile e di aver detto cose che vi possano appunto ritornare durante i vostri percorsi e nulla grazie veramente super utile veramente tantissimi bellissimi spunti e sono sicuro che io per primo ho apprezzato quindi sono sicuro che hanno apprezzato anche tutti gli altri rifacciamocela presto mi raccomando quando vuoi quando torni in Italia magari ci becchiamo tanto adesso anche con la scusa dell'azienda sicuramente ci saranno assolutamente tu quando vuoi sai che qua hai le porte aperte quindi ci possiamo divertire per bene in questo momento ci vogliono due sedili sull'aereo mi sa di sì mi sa di sì mi sa di sì prendi l'uno A e l'uno B perché poi devi stare pure con le gambe belle distese se non casino comunque è una cosa a cui penso perché mi hanno parlato molto bene insomma anche della palestra dove tu vai eccetera vediamo vediamo dai se ti vuoi fare una chiusetta per un po' di tempo qua sai che hai tutte le porte aperte insomma sei nostro ospite di Scarrozzo ti faccio vedere tutti i posti alimentazione non ti preoccupare niente preparazione non ti preoccupare niente lo dico se padre ci ascolta non ti far camminare troppo non ti faccio camminare non ti preoccupare tutto spostamento in macchina vai super tranquillo tanto grazie va bene grazie a te allora della chiacchierata vai ci vediamo presto ciao 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 Roby ciao